Ora a capitale del Roero sarà Raffaele Montanaro, l'ospite musicale del Caffè Letterario Braidese. Giovedì 16 maggio alle 21, nella cornice del Mondadori Book Story, pianista e compositore torinese, presenterà il libro La musica mi ha salvato, in cui ripercorre la sua carriera attraverso la narrazione dei momenti più significativi e le suggestioni più belle. Il maestro Raffaele Montanaro è un autore performer capace di virtuose isnei straordinari e di incantare le folle. I suoi concerti sono stati applauditi in molti teatri, le sue opere interpretate dai migliori talenti in circolazione e il programma prevede anche l'ascolto di alcuni suoi brani per esaltare una passione che non conosce limiti. Il Caffè Letterario, curato dalla giornalista Silvia Gullino, è promosso dall'Associazione Culturale Alde.